ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario cortave canine e feline informazioni commerciali titolare 5 stelle di miscelin telleroli concessionario 5 stelle di miscelin telleroli confezioni cortave canine e feline 60 capsule 200 mg formulazione mucopolis accaridi proteine della soia idrolizzate acido ialuronico glicina l glutamina acido glucoronico acido glutamico l prolina acido aspartico zolfo capsule di cellulosa indicazioni mangime complementare per cani e gatti posologia per cani di taglia medio barra piccola e per gatti somministrare 1 capsula al giorno per cani di grossa taglia somministrare 2 capsule al giorno le capsule possono essere somministrati oralmente oppure nella razione fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato ciao